Anche per l'anno scolastico 2010-2011 la Polizia di Stato propone incontri con studenti ed insegnanti. Il successo della precedente edizione e i risultati apprezzati da docenti e genitori, considerati anche che non si sono potute soddisfare lo scorso anno tutte le numerose richieste provenute dai dirigenti degli istituti scolastici della provincia di Teramo, la Questura ripropone l'esperienza del progetto educazione alla legalità. Aggiornate sul piano normativo e adeguate alle esigenze e alle aspettative segnalate saranno affrontati bullismo, regole contro la violenza nelle manifestazioni sportive, alcol e droga, stalking, rispetto delle regole, leggi, istituzioni, pubblica amministrazione, internet, rischi e sicurezza informatica, educazione stradale. Inoltre in collaborazione con psicologi, volontari della Croce Rossa italiana, sezione di Teramo, viene offerto il servizio sportello di ascolto, partito in via sperimentale al termine dell'ultimo anno scolastico. Oggi il compito di educare è sempre molto difficile, spesso i giovani incontrano sulla loro strada falsi maestri ed intraprendono strade pericolose per sé e per gli altri. Genitori ed insegnanti non sanno come fare ed hanno bisogno di un sostegno, di una guida per affrontare il non facile compito educativo. La Polizia di Stato ha pensato, d'intesa con la Croce Rossa italiana, di mettere a disposizione degli istituti scolastici che ne facciano richiesta, una specialistica che sarà presente nella scuola in giorni ed ore da concordarsi per ascoltare e possibilmente aiutare a risolvere eventuali problemi da soli o affiancati qualora necessiti da altri professionisti.